Furto nella notte alla farmacia comunale Capannori Nord di Lammari. I gnoti si sono introdotti nel ristorante adiacente all'esercizio, forzando una porta esterna. Una volta dentro, hanno sfondato il muro di separazione tra le due attività, creando un passaggio tramite il quale sono riusciti ad entrare nella farmacia. Qua si sono subito diretti alla cassaforte, smurandola e trasportandola attraverso una finestra per poi darsi alla fuga. All'interno del forziere erano custoditi circa 5.000 euro incontanti e numerosi medicinali oppiaci terapeutici. L'allarme è scattato intorno alle tre e subito sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lammari, ma dei ladri non c'era più traccia, probabilmente fuggiti per i campi. Ingenti danni sia per il ristorante che per la farmacia, che è dovuta restare chiusa per buona parte della giornata.